Questa ve la racconto perché fa ridere. Dovevo fare una riunione con un ministro, molto importante, proprio per parlare con il collettivo, il direttivo di un gruppo di lavoratori del mondo dello spettacolo. Ovviamente ad oggi anche se vuoi incontrare, parlare di progetti, di idee, si fanno le riunioni su Zoom, se ti ricevi un ministro non vai a Roma, no? Allora, io su Zoom avevo fatto una riunione prima e quindi ero entrato con il nickname, sai che poi su Zoom puoi mettere il tuo nickname, ero entrato nella riunione tipo di una settimana prima con Pisellone84. Oh, io vado su Zoom e modifico il nickname da Pisellone84 e metto Federico Lucia. Raga, entro su Zoom. Praticamente disattivo la cam per un secondo e se tu disattivi la cam viene fuori solo il tuo nickname, no? A un certo punto sparisce la mia cam e nella riunione col ministro si legge Pisellone84. E fa molto ridere, però in realtà la questione era molto seria. In realtà nessuno mi ha fatto notare niente e abbiamo parlato di cose molto serie in realtà.